Buona domenica amici, anche da Caos e da tutti i nostri 207 miciotti, iniziamo veramente dalle 5 che siamo già su, ad occuparci di tutti, la prima in assoluto eccetti, come sapete ci richiede tantissimo tempo per via della tassia e del megasofago, e purtroppo ieri sera dopo il bagnetto dello shampoo antimicotico l'ho iniziato lo sciroppino idrafungol e come sapevo e avevo già anticipato non è stata bene la notte, è andata ancora a diarrea, stamattina io ho dovuto rifare un bagnetto, non lo tollera in nessun modo il farmaco antimicotico, questo lo sapevamo e ora c'è bisogno da vedere come fare. E in più anche Caosino gli è partito un pochino di cacchina brutta, vero sono due giorni, infatti il lettino dovrebbe...